Partita contro una squadra che ha grande qualità davanti, oltre a Cossu hanno ragazzi, hanno capelli, hanno altri giocatori che sono veramente bravi a fare fase offensiva, quindi è una partita dove dobbiamo stare molto attenti, è una squadra che concede però dall'altra parte è una squadra che ha grande qualità e quindi la nostra preoccupazione deve essere quella di cercare di fare noi la partita e fare in modo che la loro fase offensiva sia limitata. Abbiamo lavorato bene, a parte Fietta sono tutti disponibili, quindi qualcuno un po' più stanco, qualcuno meno stanco, però nella normalità dei primi tre mesi di stagione, quindi niente di preoccupante, quindi siamo pronti per affrontare questa partita nel miglior modo possibile.